ciao alessandro e benvenuto grazie per averci raggiunto qui in ufficio raccontaci un attimo la tua esperienza con l'agenzia immobiliare dst buongiorno a tutti siamo alessandro 39 anni di milano io ho conosciuto sei anni fa l'agenzia di marco quando l'occasione dell'acquisto della mia prima casa stavo un po mi stavo barcamenando nel marasma nelle classiche agenzie magari sembrano più rinomate però che hanno un'attenzione al cliente un po meno profonda fortunatamente ho conosciuto marco grazie un'amicizia in comune e mi ha dato sigla nell'acquisto nella prima casa un aspetto molto importante e anche emozionale sono stato molto contento da lì poi ne è nata anche un'amicizia nel tempo negli anni professionale grazie grazie alessandro per per le belle parole quindi insomma abbiamo parlato dell'acquisto della tua prima casa se non ricordo male era una trattativa tra privati quindi insomma tu avevi fatto tutto il percorso in autonomia e poi arrivati al dunque ai giustamente richiesto l'intervento di un insomma di un professionista come andata la trattativa tra privati con un professionista che sembra quasi un'anomalia confermo si ricordi molto bene complimenti era sei anni fa era una trattativa tra privati quindi io ero l'acquidente ovviamente il venditore non voleva avere rapporti che non sentivo di agenzia però io non mi sentivo confidente sicuro nel fare questo percorso in autonomia e quindi ho ingaggiato ingaggiato a marco come professionista e devo dire che mi ha mi ha aiutato molto non solo lato commerciale fra virgolette nella conduzione della trattativa perché senza il suo aiuto non avrei comprato casa perché il venditore era una persona molto particolare un osso duro diciamo ma al di là del prezzo economico era proprio una persona un po un po difficile poi anche tutta la parte burocratica contrattualistica diciamo la parte più tecnica io non avevo assolutamente idea di barcamenarmi essendo la prima casa quindi è stato lui che ha gestito tutto siamo contratti nel suo ufficio mi ha fatto riunioni lui ha parlato con chi poi mi ha deliberato il mutuo è venuto dal notaio quindi veramente un'assistenza a 360 gradi fantastico fantastico ricordo ogni passaggio di quello che tu racconti è stato difficile però insomma sono momenti importanti che abbiamo il piacere di condividere quindi insomma ascoltandoti penso che tu possa consigliarci ad amici e parenti immagino sì in realtà io l'ho già fatto perché in realtà in questi sei anni che ci siamo conosciuti io ho consigliato Marco a diversi amici e parenti con cui Marco ha concluso delle operazioni immobiliari e tutti tutti assolutamente tutti non c'è stato uno che mi ha manifestato mezza mamma intera sono tutti mi hanno fatto tutti i complimenti per aver consigliato un professionista di questo settore normalmente popolato da persone un po' meno professioniste grazie grazie insomma quindi sono contento che anche consigliandoci tu abbia mantenuto i rapporti è stato uno sketch con un altro cliente mi ha fatto sorridere quindi lo ripetiamo allora Alessandro per concludere ti faccio una domanda e sono certo che tu a questa risponderai sinceramente puoi confermare a chi vedrà questo video che non sei stato pagato per dire tutte queste bellissime cose che insomma è effettivamente quello che pensi di Marco e dell'agenzia immobiliare DST beh allora poi 10.000 euro me li vedi no assolutamente sono qui di mia sponte non sono stato obbligato anche perché sono 130 kg di muscoli quindi sono difficilmente obbligabile a fare qualcosa confermo sono assolutamente spontaneo fantastico quindi Alessandro confermiamo le 5 stelline per l'agenzia assolutamente confermiamo 5 stelline grazie grazie